Con la ruota posteriore sollevata, ancora l'altra parte della tribuna e ancora grande, Gregor Jones! Le righe lo hanno tradito e l'asfalto sicuramente, l'asfalto, le righe delle strisce pedonali naturalmente, non altre righe. Non frattendete sempre quello che dico, è pronto, ora a segnare la sua riga, personalissima, con la signora di umano del Gornhaut, Gornhaut controllato per Gregor, che va a disegnare quelle righe che già ne vediamo tante sul retinillo del motolai. E allora, Gornhaut esasperato, con la posteriore che va in fiamme, e voi dovete mandare in fiamme Gregor Jones! E allora, il fumo sicuramente tossico, ma anche in piatta, parlando della gomma bruciata, saremo scemi noi motociclisti, ed ecco attenzione perché ora... Guarda adesso, stop and go, buon giro, limitatore o no, parte la moto, wheeling e Gornhaut in bomber, punto di non ritorno, con la pedana e i cerchi, sull'asfalto, con mai fiamme, stop and via!